Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio dirti cerca di passartela bene, cerca di divertirti. Perché questo? Perché voglio dirti questo? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Passala bene! Sì, divertiti! Perché ti dico questo? Beh, sono appena uscita dal parrucchiere, come puoi vedere. E mi sono ricordata di quello che pensavo una volta, di quello che stava sempre nella mia testa a ronzare quando andavo dal parrucchiere o dalla parrucchiera. E ogni volta pensavo, ma chissà cosa farà, ma chissà come starò, ma chissà e se poi mi rovina tutto, e se poi sono peggio di quando sono arrivata, e se poi nonostante mi fidassi della mia parrucchiera dell'epoca, avevo comunque questi pensieri che mi giravano in testa. Oggi ho deciso di dire basta, oggi ho deciso di dire no, io me la godo, io sto qui e mi rilasso e faccio fare a lui, è lui che sta lavorando, no io. Quindi cerca di essere tranquilla, cerca di essere positiva e cerca di pensare che le cose andranno sempre meglio per te. Perché questa è la vita, questa è il modo di ponersi nelle cose. Perché puoi anche pensare tutto il tempo, oddio cosa succederà, ma cambierà qualcosa? Assolutamente no. Se te ti spacchi il cervello a pensare a tutte le cose negative che ti potrebbero succedere, non eviti che succedere. Anzi, le vai a chiamare. Quindi cerca di non pensare a tutto il negativo che ci può essere, ma cerca di goderti la vita, cerca di assaporare quei momenti che puoi dedicare solo a te stessa. Cerca di essere veramente te stessa, essere tranquilla e non lasciarti prendere dal panico, dalle paure o da chissà cosa succede. No, cerca di vivere la vita serena e vedrai che arriverà un sorriso e arriverà molta, molta felicità nella tua vita. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Se ti piace, condividilo con i tuoi amici, almeno aiutiamo anche loro. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!